Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, bisogna ammetterlo, c'è un retrogusto benefico in questo dibattito che da molti mesi sta tenendo campo nei media, ma con un medesimo esito da destra e da sinistra. Il tema, in tutta evidenza, non è più diventato il se, il come e il perché articolazioni dello Stato o protagonisti della vita pubblica italiana abbiano dato vita in una contingenza storica segnata da assoluta drammaticità a contatti con la criminalità organizzata, perché sul giudizio da dare a questa eventualità non mi pare vi sia nella opinione politica una posizione diversa. Il vero punto è che da alcuni mesi taluni organi di stampa e talune fazioni politiche cavalcano questi temi con l'intento deliberato di coinvolgere alte magistrature dello Stato, probabilmente per neutralizzarne l'azione in un momento straordinariamente delicato della vita politica ed istituzionale del nostro Paese. Perché solo se si instille più fievole sospetto che tali magistrature, attraverso intercettazioni telefoniche o altri atti concludenti, abbiano in qualche modo avuto a che fare con quegli eventi di vent'anni fa, ebbene tale indegna contaminazione potrebbe arrivare a corrodere ogni gesto, ogni parola, ogni monito che giunga da quegli stranni. E, francamente, tutto questo è inaccettabile, è pericoloso per la tenuta dell'istituzione. Certo, il popolo italiano, il Parlamento, la pubblica opinione, hanno il sacrosanto diritto di sapere se qualcosa è accaduto, più di quanto non sia emerso dagli atti ufficiali, in quei giorni drammatici di guerra senza quartiere tra le forze della democrazia e quelle della malavita. Ed è questo che la magistratura palermitana ci accingerà ad accertare. Ma il diritto all'informazione del Parlamento e del popolo italiano non può essere certamente piegato ad azioni di propaganda elettorale, che mi sia consentito, talvolta traspaiono anche dal tenore di interventi e di documenti presentati in quest'Aula. Sia dunque il Governo a valutare, se sia il caso o meno, già in questa fase, prima dell'udienza del 29 ottobre, di attivare la vocatura per la Costituzione di parte civile. E per una volta cerchino le forze politiche, cerchiamo tutti, di fronte a temi così drammatici e severi per la storia del nostro Paese, di tenere lontana dal dibattito la propaganda.